Il mio lavoro e il mio amore è il design. Le mie passioni sono la musica e la cucinare. Sono tre attività umane dove ci sono tre cose connesse molto importanti. Il primo è il cuore, la passione, la seconda è il cervello, la razionalità, i comandi, il background, il know-how, come lo vogliamo chiamare, la terza parte del fisico e sono le mani. Io amo usare le mani quando faccio qualcosa, sono molto attento alle mani. Suonando la chitarra uso le mani. Sono diverso tempo che ho smesso quasi di usare il plettro e uso quasi prevalentemente solo la mano per toccare le corde, la mano destra. perché voglio sentire, voglio toccare fisicamente la corda per dargli una emozione diversa, per dargli una funzione. La funzione fa uscire il suono in una maniera differente. Allora, nel design, ho detto diverse volte che nel design, la funzione, come dice tra l'altro il mio motto, la funzione è la matrice del progetto. Ma la prima cosa che io analizzo quando disegno un oggetto sono le mie mani, le mani delle persone, le mie mani come usano quell'oggetto. Perciò faccio un grande studio sulla mano quando progetto, sul movimento, sui movimenti, su come dal cervello viene dato l'impulso a usare, a usare, a usare un oggetto. E' molto importante come viene dato l'impulso, come poi uno usa un oggetto, come usa un utensile. E' molto importante. Lo studio della mano per me è una delle cose più importanti, forse la più importante parte del corpo da analizzare all'inizio di qualsiasi progetto di industrial design.